Cari amiche e cari amici, faccio questa live dopo giorni di aver visto su YouTube un interessante video di una signora che affermava che non ne poteva più di stare supportando per più di due anni economicamente al signor youtuber Matteo Montesi. Faccio questo video, cioè, perdon, questa traccia di Spreaker che voi dopo lo vedreste salvato in un mio canale di YouTube. Ma lo faccio così a tempo perso, già nel passato nel mio canale principale di YouTube San Ten Chan, che troverete il link in questo canale, di quel canale che ha molti più video. Ho dedicato molti video e molti radio podcast al signor Matteo Montesi, chiarendo molti punti. E poi ho anche risposto al nostro amico Iperione, per cui lui ha anche messo dei miei video in una sua lista di riproduzione. E poi risposi anche a, non mi ricordo come si chiama, Cavaradossi. Beh, tutto il circolo di quei come Mauri, anche tutto il circolo di quelli che ci siamo occupati del fenomeno Matteo Montesi. Adesso trasmetto tardi perché sarà come una mezz'oretta circa che io, in questa nuova versione di Spreaker, volevo caricare una miniatura che poi, vabbè, si vede molto piccola, soprattutto quando si salva in YouTube. Ma non sono riuscito a mettere nessuna immagine, quindi vendrà, vendrà senza, senza foto, ma non importa. Allora dicevo, poi vado a voler guardare di nuovo questa mezz'ora di video che ha fatto, ha caricato una signora, e il video non c'è più, sparito dalla mia lista dei preferiti. Io ho controllato subito, perché volevo riguardarmelo per annotare quello che diceva e rispondergli. Quindi non so più neanche come si chiami questa signora, perché altrimenti gli avrei detto molte cose personalmente. Ma la cosa più interessante è che lei gli diceva appunto a Matteo, tu non sei un buon cristiano, tu non sei un buon cristiano, tu sei ispirato dal demonio e cose di questo genere. Tu sfrutti la gente. In effetti dovete sapere, come io ho spiegato in molti dei miei video, cercate nel mio canale San Ten Chan, dove do anche dei consigli a Matteo Montesi, perché magari lui è in buona fede è in buona fede. Ma i simboli hanno un significato soprattutto metaforico, sono delle allegorie. E quindi è inutile che reciti delle preghiere, o ti fai il rossario, o vai a Chiesa, se non segui un buon cammino, come si suol dire, se hai una cattiva orientazione. Perché altrimenti, per esempio, lui, io nel 2013, 2010, 2013 ho visto molti suoi video, poi ho iniziato a averne di meno, perché li faceva sempre più larghi, sempre più larghi. E chi c'ha 5, 6, 8 ore di tempo per guardare un video? Cioè, ma io ci ho messo un mese per guardare tutti gli episodi di Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela. Ma è Piero Angela? Viaggio nel mondo del paranormale degli anni sessanta, non so se mi spiego. Ma Matteo Montesi ogni giorno faceva ogni giorno, ogni giorno, uno, due o tre video di sei ore. Allora, finché erano dei video di 20-30 minuti, ci sta uno a settimana, non tutti i giorni. Ma quando è iniziato a fargli di ore? E non ci sta. Ma io, andate a vedere nel mio canale Sant'Enchan, gli ho consigliato a Matteo Montesi. Tu cerca di leggere, cerca una buona orientazione, perché altrimenti non è detto che tu, semplicemente pregando alla Madonna. E poi io ho guardato molti dei suoi video religiosi o pseudo-religiosi, perché non so se fa sul serio, non so se fa questi video per farsi donare del denaro, facendosi passare per religioso, o se fa dei video ironici, perché magari il suo tentativo è quello di divertire la gente, facendo dei video ironici, e la gente che si lamenta con lui perché gli sfrutta, non capiscono la sua sottile ironia. Ma magari lui vuole solo essere ironico. E di passo, prendere del denaro. Perché bisogna dire, Matteo Montesi non è l'unico youtuber italiano e anche nel mondo che chieda del denaro. Anch'io dico nel mio canale principale che ho riottenuto le monetizzazioni dopo tre anni, abbonatevi per supportarmi, così io ogni giorno parlerò in ogni video dei vostri canali. Schiacciate il bottone grazie e fatemi un donativo di denaro. partecipate domani per esempio venerdì, domani venerdì 14, no domani venerdì 13, ci sarà una mia premiere. Allora io a tutto il mondo dico, partecipate nella chat con una super chat, datemi uno sticker, schiacciate il bottone grazie, abbonatevi. Ma lui si direbbe che esagera Matteo Montesi. Comunque, i rituali, ecco di questo ne parlerò in seguito, adesso è molto tardi, ma i rituali hanno un valore, dipende come gli si pratica, che orientamento gli si dà. E lui, sono più le volte nei suoi video pseudo religiosi che nomina il demonio, alle volte che nomina Dio, Gesù, Buddha, Zarathustra. E quindi mi sembra che faccia venire il sospetto che lui sia satanato, nomina più volte il demonio che non Dio, sempre a parlare dei diavoli. Forse lui vuole fare della semplice ironia, beh, dopo queste brevi considerazioni, forse domani farò un altro programma, vi lascio. Grazie per quelli che mi hanno seguito in live e grazie a tutti di quelli che mi sentiranno dopo. E mi raccomando seguitemi nel mio canale di YouTube.